Oggi sono a Firenze, sono qui con Michael Hoyt, stavamo passeggiando in giro per le strade di questa magnifica città e parlavamo della terapia breve a un certo punto. Che cosa vuol dire essere breve? Perché in realtà se ci pensiamo tutti i terapeuti, tutti gli psicoterapeuti vogliono essere brevi, nel senso che nessuno psicoterapeuta vuole tenere il proprio paziente per troppo tempo. Steve Deschelser, uno dei terapeuti padri delle terapie breve moderne, disse che terapia breve significa una terapia che dura soltanto il numero di sedute necessarie e non di più. E questo è un concetto che si può allargare a chiunque, no? Che può essere messo in bocca a qualunque tipo di terapia, perché nessun terapeuta, nessuna terapia vuole tenere un paziente più del necessario. Però forse la differenza è che un terapeuta che vuole essere breve vuole studiare come diventare breve, cioè, almeno nel mio caso è stato questo, vuole, ed è tuttora questo, studiare tutti i metodi, tutti i modi, tutte le tecniche, tutte le vie, tutte le epistemologie, tutte le possibilità che gli permettano di essere breve. Quindi, alla fine, fare terapia breve significa studiare i modi in cui si riesce a essere utile a una persona in breve tempo. Questa è una sfida, è una bella sfida, perché quando studi all'università di solito non studi la terapia breve, non studi questo concetto. Vengono dati per assodati dei punti, vengono dati per assodati dei principi, il fatto che, per esempio, il cambiamento necessita per forza di molto tempo per essere attuato. Per esempio, almeno nella facoltà che ho frequentato io, la Sapienza di Roma, non so di altre facoltà, poi parlo di molti anni fa, c'era una forte componente psicoanalitica che veniva fuori. E quindi, che cosa significava quello? Che l'idea che il cambiamento potesse avvenire in poco tempo non era proprio così preponderante, ma in generale l'idea che il cambiamento debba essere qualcosa di lungo è una, come dire, un'idea molto molto diffusa anche al di là della psicologia. Anche perché forse in parte c'è l'idea che la personalità si struttura in tanto tempo e quindi un cambiamento deve anche quello, in qualche modo, per una connessione che non è del tutto logicamente definita, debba necessitare di molto tempo. Non è del tutto logicamente definita perché il fatto che la personalità si struttura in tanto tempo, e anche questo comunque è qualcosa che dovremmo mettere sotto analisi, che vuol dire che la personalità si struttura in tanto tempo, non significa comunque che il cambiamento debba avvenire lo stesso in altrettanto tempo. Ci sono poi degli assunti che sopravvivono ancora oggi, ma che in realtà sono stati messi fortemente in discussione, anche, come si dice, sono stati confutati, come il fatto che se lavori sul sintomo poi questo riemerge da qualche altra parte, cosa che a parte delle volte non è così, ma anche l'idea che in terapia breve si lavori sul sintomo è sbagliato, perché spesso in molte terapie brevi non lavori sul sintomo. Che vuol dire lavorare sul sintomo? Vuol dire che io ti prendo il sintomo e vado a fare delle cose lì? O magari che vado a lavorare su altri comportamenti, altre percezioni, e questo lavoro farà sparire il sintomo. Insomma, sono dei concetti diversi. Però la base qual è? La base è quella di considerare il fatto che fare terapia breve, al di là dei modelli, al di là di che tipo di terapia breve fai, ma voler essere breve in terapia significa mettersi sotto e studiare dei modi per abbreviare il più possibile la propria terapia, tanto che abbiamo terapie brevi in tutti gli ambiti, terapie brevi psicodinamiche, terapie brevi nell'ambito, una matrice sistemica, infatti la strategica in parte derivata lì, anche la social focus in parte a origine lì, anche nella cognitivo comportamentale ci sono degli interventi brevi di pochissime sedute. Fare terapia breve, quindi alla fine, significa studiare questo, studiare i modi e mettersi in discussione, nel senso dirsi costantemente, farvi vedere se c'è un modo più breve per aiutare le persone per questo problema, per questa situazione e per questo contesto.